benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e vi presento questo webinar sessione operativa sul file degli short istituzionali che facciamo con Fabio Bolis eccolo qua ciao Fabio buongiorno Alan e a tutti gli amici di WeBank allora Fabio puntata conclusiva del 2021 puntata molto importante perché andando a rivedere tutte le puntate precedenti abbiamo visto come si sono evoluti gli short degli istituzionali sul nostro indice che cosa vedremo oggi nello specifico sì allora come sempre faremo un po' il punto della situazione in modo tale da vedere a che livello sta il nostro indice andremo ad analizzare alcuni titoli ma essendo appunto come hai detto giustamente tu l'ultima puntata dell'anno vedremo un attimino di capire cosa è successo nel corso di questo anno perché siete stati abbastanza fortunati a livello formativo cioè abbiamo visto nello stesso anno una situazione di short tranquilli e una situazione invece di short in forte incremento quindi confrontare queste due situazioni ci permetterà proprio di costruirci quel bagaglio conoscitivo che poi ci permetterà di affrontare i mercati anche nel prossimo periodo perfetto vi faccio vedere i recapiti se volete entrare in contatto con WeBank Banco BPM potete contattare direttamente me al 347 28 03 056 oppure per email ad alanvincenzo.gendusachioccelapromotori.bancobpm.it qui sotto trovate un codice promotore PF 52 118 che è un codice fondamentale da inserire nella richiesta di apertura conto online su WeBank.it con questo codice otterrete due vantaggi esclusivi l'assistenza diretta e gratuita all'interno del trading team della banca in particolare con me e una promozione ad hoc per coloro che seguono Fabio Bolis Bene, potete prendere quindi visione del webinar cliccando sul link che trovate in descrizione e come sempre vi ricordo di registrarvi ai nostri numerosi webinar di formazione gratuiti che trovate su WeBank.it Buona visione con Fabio Bolis